È mercoledì pomeriggio qui a Sant'Agata sul Santerno, sono da poco passate le 14 e il fiume Santerno che ha rotto l'argine questa notte sta ancora buttando fuori milioni e milioni di litri d'acqua ad una potenza inimmaginabile. La città è completamente sommersa, le campagne anche completamente sommersa, la corrente è impressionante, adesso forse non si vede ma dalla parte alla mia destra è veramente impressionante la potenza dell'acqua, il cimitero è completamente allagato. Questa è Sant'Agata sul Santerno, oggi pomeriggio.